L'estate tetina volgerà allo scalo. A Chieti tornano gli eventi scalini che animeranno nuovamente il settembre della città nel rispetto delle normative anti-covid. Promessa mantenuta, ha detto soddisfatto il vice sindaco di Chieti con delega agli eventi Paolo De Cesare. Dopo tanti anni torneranno e soprattutto torneranno con un programma importante, autorevole, sperando di esserci buttati alle spalle questa maledetta pandemia o comunque il periodo più brutto di questa pandemia, vogliamo tornare in serenità e in massima sicuramente sicurezza ad organizzare manifestazioni per aiutare anche il tessuto commerciale cittadino portando tante persone in città. Gli eventi toccheranno diverse zone di Chieti Scalo. Occorrerà prenotare e per effetto dei decreti legge vietato ballare. Si parte il 10 settembre con lo spettacolo di danza in Piazzale Marconi, l'11 Tribute Band di Adriano Celentano, il 12 si sibiranno i Quattro Santi a Brecciarola, il 16 serata dedicata all'associazione Enfas & Friends e il 17 serata di gala. Sabato 18 poi la Notte Gialla che coinvolgerà anche le attività commerciali e culminerà col concerto di Neck. Il momento più importante sarà il 18 settembre in occasione dei festeggiamenti del Santissimo Crocifisso a Piazzale Marconi. Ci sarà il concerto a Notte Gialla con diverse iniziative, diverse esibizioni, ma il tutto culminerà la piazza più importante, appunto Piazzale Marconi, con l'esibizione del concerto di Neck in acustico. Sono un'estate normale, normale, normale Uh!